Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, andiamo ad analizzare il convegno di Trotto in programma martedì 22 ottobre. Ora inizio alle ore 14.35 con due belle corse che riguardano una reclamare e una condizionata che preannunciano tra le 7 in programma il centrale, il premio Atletica Leggera, che invece si svolgerà alle ore 17.30. È la sesta competizione in programma, è un invito riservato a cavalli anziani di 5 anni e oltre che concorreranno per i montepremi di 8.800 euro sul Miglio. Questo è un gruppo che si presenterà come secondo impegno a quello che è il Gran Premio Sicilia di giorno 2 novembre. Tra chi guardando il campo partenti possiamo scegliere i protagonisti, salta all'occhio Whitton Ferme che vince l'ultima e scrive sul suo curriculum comunque a buona forma. Attenzione anche da Pato F che viene da Napoli, a Siracusa ha già vinto e può far bene, poi ancora Ungaretti Ors che è generoso, c'è Train Again che comunque è positivo guardando le ultime prestazioni, scende a Siracusa con forma anche United AS. Vielle liebbe poi a buoni riferimenti, quindi un po' tutti possono avere chance. Ce ne parla però sicuramente Francesco Sir, che è il nostro segretario corse, che di più potrà dirci nel dettaglio. Gli anziani si sfidaranno in questa sesta corsa, per alcuni di loro sarà l'ultimo lavoro di rifinitura per chi parteciperà poi giorno 2 al Gran Premio Regione Sicilia. Tra questi sicuramente United AS e Pato F sono i soggetti più attesi. Pato F andando davanti diventerebbe il cavallo da battere qui sulla pista, ha fornito delle prestazioni eccezionali in questa primavera e anche nel corso dell'estate. Poi Ungaretti Orso per la sua generosità può essere il terzo nome, ma occhio a Whitton Ferme che all'ultima uscita contro questi ha dato scalcomatto a tutti in gara di attesa e chissà che non possa riuscirci ancora una volta. Apertura del Trotto all'Ipodromo del Mediterraneo per martedì 22 ottobre alle ore 14.35 con la prima corsa. Il premio Rudiska sono 1.600 metri per una a reclamare con indigeni europei di 3 anni. 10 alla via, guardiamoci il campo partente in forma Ats Salud. Ancora Vana GV particolarmente chiacchierata e scuderia potrebbe essere una delle favorite. Attenzione alla linea dettata da Sisi Pax con Anastasia Griff che sicuramente deve dimostrare tutte le sue buone qualità. Ha rientrato bene e se non rompe gli indugi a Sisi Pax è valida alternativa. Alison di Gaia ultima da riscattare. Attila poi che è l'ospite che ritorna a Siracusa peraltro con un'ottima forma espressa su altri campi. Sentiamo Lorenzo Larosa che è impegnato con Aglar e ancora il parere del nostro segretario corse Francesco Sirchia. In questa corsa guido Aglar dove faccio una cortesia a un mio collega quindi mi hanno solo detto che rientro e non so dirvi altro poi domani si vedrà. In questa corsa mi vengono all'occhio un paio di cavalli che sono il numero 9 Attila e poi giostrerei tra il numero 3 Havana GV e il numero 5 Sisi Pax. E allora Attila perché è un cavallo che ha fatto la qualifica qua poi ha fatto una serie di corse e è tornato a correre qua in un centrale dove è arrivato bene con i primi due della piazza e è arrivato terzo. E gli altri perché tutto sommato sono cavalli che ci stanno sulla categoria. Il convegno di martedì inizia con due prove per i cavalli di tre anni. Nella prima gli occhi puntati sono sul numero 4 di Anastasia Griff, soggetto molto dotato che scende anche un tantino di livello. Se non si farà tradire dal suo caratterino un po' così pimpante potrebbe essere la cavalla da battere. Sta facendo bene a Sisi Pax che ha corso anche in contesti migliori e occhio ad Attila, ospita che arriva da Napoli, più volte ha calcato le piste di Siracusa e sempre con buoni risultati. Diciamo che questi sono tre cavalli su tutti, volendo aggiungere una sorpresina o anche una base piazzata si può provare con il numero 3 di Havana GV. La seconda competizione, il premio Usail Bolt è legato a un corner nazionale, si corre sul miglio una condizionata per cavalli giovani di tre anni. 11 al via, molte le novità sulla pista che potrebbero rompere i pronostici ma tra i più rodati citiamo Aledef che è il favorito, ancora Atena Gifont ben rientrata, Antigone Rab regolare al rientro, buon riferimenti per Angelo Dipa che insieme ad Alvise Rab hanno una linea in comune, ci riprova Siracusa anche Aldo Baio e ancora gli ultimi due dello schieramento sono appunto le due novità più chiacchierate tra le scuderie. Sentiamo Lorenzo La Rosa che è proprio impegnato con uno di queste due novità, Ariel Derronchi che partirà col numero 11 e ancora Francesco Sirchia che giustamente attripirà nuovi dettagli. Ariel Derronchi è una cavalla che ha rientro, ci stiamo lavorando sopra meccanicamente quindi sto correndo proprio per vederla in mezzo ai cavalli, non credo almeno per questa corsa di avere moltissime chance. Non è facile il campo partente? Non è per niente facile, è difficile anche da pronosticare ma che dirvi, io direi proverei col 7 Antigone Rab, poi col numero 8 Aledef, anzi direi al contrario, l'8 Aledef, il 6 Antigone Rab e il 9 Atena Gifont. Tornano in pista i cavalli di tre anni in una condizionata non vincitore di 10.000 euro in carriera, 11 soggetti al via con qualche novità, per esempio quella di Alquitrana, una figlia di Loviu in elemento a Gasparolo Verde con un curriculum tutto discreto, abbastanza discreto potrebbe essere una voce nuova in questa categoria ma il favorito resta Aledef che nelle ultime due uscite pur non vincendo ha mostrato gran forma, gran condizione, è andato anche sotto l'1.15, misura che qui gli garantirebbe sicuramente il successo. Al gioco dei piazzati sicuramente il veloce Angelo Dipa se conquisterà subito lo steccato può essere una buona scelta. Tra gli altri suggerirei l'1 di Alviserrab e il 2 di Aldo Baio. Andiamo a guardare il campo partenti della terza corsa, il premio Mike Powell ancora abbinato a un corner nazionale, si allunga la distanza, si va su 2.200 metri. Indigeni di 5 anni oltre ed europei di 5 anni oltre impegnati per una categoria G, che vede un ultrascam aprire con il numero 1 questo campo partenti, dovrà impegnarsi soprattutto anche perché allunga sui 2.200 metri. Rientra con Chance Villa Orbe a Gette che è sempre di buoni mezzi, Tesis, GV e Sacrogetta hanno una bellissima linea in comune che sembra e potrebbe essere proprio quella vincente. Attenzione anche a Totobiene che è valido avversario. Deve cancellare l'opaco rientro, il numero 5 dello schieramento, Tivadar Verinais è a luglio approdato a Siracusa senza clamore e adesso ha naturalmente sulle sue spalle l'attesa del team. Poi c'è Royal Viking che non brilla, Paper Cuff che rientra dopo un lungo stop e Usterina TRGF che è un soggetto che sulla pista ha qualche problema di meccanica, è un soggetto fallace. Andiamo a guardare la corsa numero 4, un premio che si allunga sui 1.600 metri, una categoria quella G con indigeni di 5 anni oltre. 9 soggetti al via, Scila Boss positivo con Vincent AMG, Regolare, Tabor Cuff, Steve McQueen Trebb se non sbaglia sono i protagonisti. Ne parliamo con Lorenzo La Rosa che è impegnato con il numero 5, sede dello schieramento. È fondamentalmente una corsa allievi dove non c'è tanta esperienza quindi ci si può aspettare di tutto. Io penso che qui la corsa se la giochino in tre senza nulla voler togliere gli altri e sono proprio il 5 Tabor Cuff, il 6 Vincent AMG e l'8 Scila Boss. La quinta corsa invece è un reclamare con indigeni europei di 4 anni impegnati sul miglio. Guardiamoci il campo partenti, sono 10 al via, rientra Siracusa dove sa vincere Zuper che è particolarmente temuto. Poi tante linee al confronto, quelle tracciate tra Zum e Lecce che cerca la vittoria con Zazia del Ronco e Zonco. Zonco che comunque ha incrociato Zaffiro Giall che reduce da vittoria. Così come anche Zoraida Fond che sicuramente ha un'ottima condizione. Impegnato anche Zigano Rab che dovrebbe migliorare. Fa paura Zephyr Weiss L che comunque è un soggetto che qui a Siracusa ha fatto sempre bene. Ci proverà anche Zig Zag B particolarmente veloce. Zeli Rab che è una piazza con questa categoria può sicuramente rubarla. Quindi tutti i protagonisti hanno veramente una chance in queste linee che si incrociano. Vediamo cosa ci dice Lorenzo La Rosa che è impegnato con il numero 6 di Zonzo. Anche qui faccio la cortesia ad un allenatore, un mio collega, quindi non conosco il cavallo. Mi ha detto che è un cavallo che ha mezzi anche se la corsa è molto molto impegnativa. Io direi in questa corsa qui di provare con l'uno Zopper. La Siracusa ha dimostrato di saper vincere mi ricordo. Sì è un cavallo che va forte, viene da Napoli ma va abbastanza forte. Poi metterei, credo che è il cavallo che dovrebbe andare in testa, il numero 4 Zig Zag B. Poi Zephyr Weiss L con Zonzo magari come alternativa. Una sorpresa. Sorpresa Zoom LC. La settima corsa Siracusa per chiudere il convegno di trotto in programma martedì è una categoria F legata a indigeni di 5 anni e oltre. Si corre sul miglio, ci sono 10 soggetti al via. La novità sulla pista è Chin Chin che viene dal Benga, prova Siracusa, ha lasciato un buon ricordo lì dove vince. Se è migliore ancora Spirit MN, regale della buona qualità e Toshiba se non sbaglia è da temere, sembrerebbero quelli che guardando il curriculum possono avere la meglio sugli altri. Lorenzo Larosa ci parla di Ottavio DL e anche Bene. Ottavio è un cavallo generoso, non corre da più di 20 giorni. Comunque ripeto, è un cavallo che il suo dovere lo fa sempre. Anche questa è una corsa un po' così intrecciata. Io vedo un cavallo qui che se ricorda quello che è dovrebbe poter correre abbastanza bene, Re Chin Chin numero 4. Con Toshiba S il 9 e poi giostrerei Spirit MN con Ottavio. Non mi resta che ricordarvi dunque l'appuntamento con il trotto martedì 22 ottobre dalle ore 14.35. Già apertura con due corse interessanti aspettando il centrale alle 17.30. Arrivederci.